Ragazzi, qualcuno di voi non se ne sarà accorto, alcuni si, ma questa settimana non ho caricato video Non ho caricato video però non perché non ho avuto voglia, ma c'è stata una serie di conseguenze Alcune personali, alcune dovute, hanno fatto i lavori qui a casa mia, è stato per tre giorni il casino più totale Quindi non potevo registrare Terza conseguenza è stata che sono stato male E sono stato male, ho avuto 38 e mezzo 39 per due giorni E durante questi due giorni ho avuto la bella idea di giocare a Rainbow E cos'è nato da questa partitella di un'ora e mezza Rainbow Siege? È nato un Rainbow Siege sclero perché è lì dietro l'angolo, quando non te lo aspetti viene fuori Complice di queste incazzature è dovuto al fatto che avevo la febbre Non giocavo a Rainbow da quando mi sono classificato Platino 3, non sa più di due settimane Non giocando a Rainbow io ancora perdo 100 punti a partita Quindi questo è il frutto di quello che è successo Per il resto vi chiedo di sopportare con un like, ho visto che i video di Rainbow li volete sempre di più Quindi sopportate con un like che ve li porto a presto, non solo video dove sclero, bella Fascettina tattica Sono talmente brutto che sono abietato in 20 paesi Ragazzi un bandit, se no ci aprono dietro Questi mi hanno già lotto tre quarti di minchia Ragazzi ma con che gente sto giocando? Ragazzi non hanno chiuso niente No, la prima partita così? Cioè non hanno barricato un cazzo questo? Cioè non so se vi siete resi conto Mi sta venendo il vomito già la prima partita Potete stare zitto al posto di parlare dei vostri cazzi Che non gliene frega niente a nessuno Stanno parlando del garage, stanno parlando di cosa stanno parlando? Dove va? No raga ma questi, ma questi che rango sono? Ma questi si fanno fottere anche da mio nonno Nessuno drona, questi vanno all'attacco a caso No, no, non ci voglio credere Le avevo sentite, le avevo sentite Ma come faccio a giocare così? Dei deficienti del genere Mi sto, mi sta venendo da piangere Ah ma se difendiamo come prima? Non è che cambia molto eh Prendiamo sto round e attivo il microfono Me li mangio vivivore Mi spiegate cosa chiudete lì? L'obiettivo è qui L'obiettivo è qui Non chiudono Guardate che gente Anche uso quello Quello Ma non chiudono E poi muoiono per fare sporchi Sei droppato Sei droppato porco Ah no gli ho fatto danno Ah cos'è quello lì? Che danno è quello? Cosa gli ho rotto? Una pellicina? Gli ho cavato una pellicina? Con una scarica di Jäger? Ma come? Io giocate voi quattro? Non barricate un cazzo Lo state facendo apposta? Maialino Piggy Ma vaffanculo va Ma ragazzi ma quelli sono scarsissimi Ma voi quattro siete un disastro Stai face Ti devi cavare quel face davanti Sei una vergogna Ma stiamo facendo una partita Una classificata Durata 5 minuti Neanche Oh La prima partita Dopo 3 settimane I mongoli Adesso ve lo dico Guardate da dove li sponchillano eh Dalla finestrina Dalla finestrina di porta Sicuro Muore uno Ti ho detto? No vabbè ragazzi Platini questi Ma dove platini? Ma che gente c'è a platino 3? Ma cos'è successo Mentre non giocavo? Andiamo adesso questi Ce li ho contro Incredibile Oh figlio Perché non sono stato fermo? TORO Ragazzi dai Chiudiamo eh Per favore Non facciamo i fraidi Non mi piace Sto situazione Qui ragazzi Ma qui Qualcuno che apre Stabattula? Voi avete capito Perché Ash Non è morta? Io no Oh Dai Dio Boh Noi ci sono scarsi Come la puzza eh Q e Blitz Che cazzo Non servono qui? Non servono a un cazzo qui Usa un toucher No? Dovrebbero andare L'opzione Limite di età Con limite di età Ti puoi scegliere solo Due operatori Toucher e Thermite Che sono sempre utili Sei obbligato a scegliere quelli Obbligato Non puoi far di testa tua Perché se fai di testa tua Fai stronzate Guarda che drone che ti metto Io Una perla Questo Lo metti manco Se stai sei giorni Lì a provarci Devo iniziare A cavare la felpa Perché inizio A bestemmiare Adesso finisco domani Eeeh Vitton Luis Vitton Ascoltami caro mio Tu eri bravo A fare le borse Non a giocare al Rainbow Quindi è inutile Che qui Cerchi di fare Non so cosa Sta dentro Sta dentro l'obiettivo Che lì danni Non li fai Ti capi Vitton? Dai su Barica qui Vitton Oh Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Non ci volevo a mostra Capire dove erano Se io sono da solo In obiettivo Voi quattro Non ci siete Perché siete a spasso Dove cazzo state Che sono Uno mi fiusa Uno mi apre le bottele Che magari Uno dei quattro È sopra No Elcio Sta a fare i giochini Qua con la sua Con il suo drone Solo Solo fa andare su Per il culo Come si diverte Si vorrà parecchio Capirlo Che si possessava Dai entra No Sarà di là Quello gioca ancora Con Blitz Si crede Forte Con Blitz Ma che cazzo fai Mi rompi la mia carica Ma ragazzi Ma in che lobby Sono capitato Squadra d'attacco Eliminata Ma ti potrai chiamare Ninja Pro Ma secondo te Può essere preso Seriamente Uno che si chiama Ninja Pro Ma Dragon Mi servirebbe una mano Non glielo do Non glielo do Si è riconnesso anche da solo Ha fatto tutto lui Avete visto? Si è staccato Si è riconnesso Ha capito la situazione Per carità Posso essere anche diventato Scarsissimo Scarsissimo Due settimane che non gioco Scarsissimo Ma ragazzi Ma ragazzi Cioè sono sempre solo Sono sempre solo Contro tutti Io non so dove cazzo vanno gli altri Cosa fanno Cosa fanno I giri Cosa Dove vanno Sti malati di giri Se non fanno le maratone Su sto gioco Non stanno bene Stanno male dentro C'ho la manina tremolante Si vede che mancano Due settimane che non gioco Ma chi mi ha sparato Voi mi dite quanti avete mai visto andare lì Qual è l'utilità Ma non hanno chiuso un cast Certo che prendo la recluta E poi non mi rompete il cazzo E poi non mi rompete il cazzo Io vorrò vedere che fanno i miei Nel turno in difesa Che non c'è mai niente di barricato In sto gioco Non è come giocare contro la vostra madre Che è facile entrare Devi rendere un po' la roba difficile Se no di un po' ti fanno il culo E la roba difficile Non è andare in giro È barricare Usare i cavi Il c4-1-2 Non servono 40 Ma il resto sono cavi Roba per rallentare la difesa Ma non gioco col mio team Siamo mica fenomeni 9 partite su 10 Gioco con questi Beh sono Se spara vuol dire che non disinnesca Sta tranquillo Sta nel tuo Che se n'è andato Veniamo qua Tanto abbiamo difeso bene Questo cosa sta aprendo Il Grand Canyon Che ha tirato 50 Ma che cam è questo Ma cosa vedo Mori anche dopo aver messo ste cam Ci credo Dio è bar Ti devi vergognare Si vabbè Però il dio Nella madonna E vabbè Saltano le levette Dove è andata le levette? Dai Beh è il Valkyrio